Un uccello che sta posato su un ramo non ha paura che il ramo si spezzi. E in effetti il ramo si potrà spezzare, prima o poi si spezzerà. Ma l'uccello non teme questo, perché lui non si basa sulla solidità del ramo, ma si basa sulla forza delle sue ali, sulla sua capacità di volare. E tu sei meno di un uccello? Sicuramente sì, quando ti basi sugli altri, sugli eventi esterni, sulle circostanze. Sappi che sono come il ramo, potrebbero rompersi. Ma tu devi essere come un uccello, imparare a volare, sempre e comunque. Metti un like e con l'abbonamento base segui tutti i miei seminari. Ciao. Grazie. Grazie.